E ciao Smarties! Finalmente, finalmente qualcuno mi dà ragione e ho l'occasione di parlarvi di questa teoria delle intelligenze multiple del professor Gardner, tanto cara ai miei detrattori o a chi si vuole sentire speciale in tutti i modi. Mi spiace deludervi, non sono d'accordo, ma arriveremo per gradi anche a smontare dal mio punto di vista questa famosa teoria che fa molto presa sulle persone comuni perché è bello sentirsi tutti geni a modo proprio, ma non è proprio così. Lo vedremo. Ciao Simone, ciao Leonardo e volevo ringraziare tutti gli abbonati del canale, anche chi si è abbonato e soprattutto al Tire2. Cioè in realtà vuol dire che siete davvero interessati ai miei contenuti, alle mie live, visto che vi ho promesso una live personalizzata al mese. Vedremo come attuarla per un discorso tecnico, non sarà semplice poterla settare su questa piattaforma, ma lo faremo insomma, tanto la prima sarà il primo ottobre. Ok, questa live per tutti, dovreste avere i badge se siete iscritti, se siete diventati degli smarties a tutti gli effetti e vi vado ad introdurre il motivo e lo spunto di questa live. È un'intervista rilasciata dal professor Ronald K. Hoflin, che è stato il fondatore, il fondatore di alcune delle prime society in cui mi sono iscritto, fra cui la mitica IP Media Society. È una di quelle alle quali sono più legato come ricordi per le discussioni che si generarono, per il Blue Eyes Puzzle in cui sconfissi, tra virgolette, un mostro sacro come Kevin Langdon perché lui sosteneva che la mia soluzione non fosse corretta, poi si rivela ottale. Insomma, ho conosciuto persone, è stato bello. Lui ha fondato la TOPS, Oath, One in a Thousand Society, una su mille, Epimiteos, uno su trentunomila. Poi abbiamo la Omega, l'ultima uno su un milione. E poi è stato anche, anzi prima, il creatore dei più famosi test range della storia, fra cui il Megatest, il Titan il Titan Test, i test provati che hanno reso celebre i personaggi come Marilyn Vossavant o Rick Rosner, che prese anche un punto in più della Vossavant, nonostante sia stata inserita nel Guinness dei Primati come persona col cui è più alto del mondo, cosa non vera, insomma, è dimostrabile, per quanto abbia comunque provato di avere un cui altissimo. Bene, vi vado a prendere la parte 3 di questa intervista pubblicata il primo settembre su Insight Journal, che è un giornale che rilascia, insomma, dedicato a delle interviste a personaggi noti, soprattutto nel mondo dell'EQ Society, ma non solo, fra cui anche me, non so perché ci sia stato inserito, ma anche io la mia intervista in tre parti la potete trovare cercando un numero diverso. Questo è il volume 21 del journal. È proprio un journal peer review, quindi vale anche come pubblicazione, in realtà. Me la metto nel curriculum. È un ISSN che è 2369-6885, se vi interessa. Questa è la terza parte dell'intervista del dottor Hoyflin, tra l'altro il fondatore della Prometheus Society e Mega Society. Non sapevo che fosse anche lui il fondatore, comunque, è creatore del Megatest e TitanTest. Insomma, non vorrei sbagliare, ma questi sono i dati indicati su questo journal, saranno veri. E si parla di teoria delle intelligenze multiple, ragazzi. Allora, all'inizio la domanda viene posta in merito alla teoria tripartita, come si chiama, triarchica, triarchi theory of intelligence. In pratica questa tripartizione dedotta dal professor Robert Sternberg, che si baserebbe sulla differenziazione fra intelligenza pratica, intelligenza creativa e intelligenza analitica. Nonostante il professor Hoyflin plauda questo tentativo molto rozzo di scorporare l'intelligenza, dice che sembrano un po' poche tre tipi di intelligenza per poter creare una teoria generica, robusta. Quindi si va a parlare della teoria delle intelligenze multiple del professor Gardner, quella tanto famosa. Tutti siamo intelligenti a modo proprio, tu sei un ritardato nell'intelligenza naturalistica, in quella cinestetica, dite, in quella, che vi devo dire, musicale. In realtà non è così. Non sono mai stato d'accordo, mai stato d'accordo, però adesso finalmente una voce più autorevole della mia, un addetto ai lavori con un PhD in psicologia, può finalmente dire la sua. Io mi possa accodare. E poi vi dirò col metodo logico-deduttivo quello che io potrei dedurre da tutto ciò. Allora, vi dico quello che dichiara il professor Hoyflin. Spero di averlo pronunciato bene. La teoria dell'intelligenza generale era basata sul fatto che ci fossero delle forme di intelligenza apparentemente diverse, come quella verbale, spaziale o numerica. E queste tre forme di intelligenza, queste forme di intelligenza hanno una correlazione positiva fra loro. Quindi, fra ogni coppia c'è una correlazione positiva. Non si può fare la correlazione fra dieci cose diverse, ma si può fare la calcolare il coefficiente di correlazione fra le coppie di intelligenza, confrontando i punteggi di una singola persona in test diversi, comunque in prove che vertono su più aree. E quindi, presumibilmente, basate su una sorta di fattore sottostante di intelligenza. Quindi, vi dico proprio testualmente, presumably based on some underlying general intelligence. Scusate la pronuncia. I'm sorry for my bad pronunciation, but I am Italian, so that's all. That's it. Poi c'è la domanda che tra gli esperti di questa comunità di ricercatori, qual è l'opinione sulle principali tre teorie e dell'intelligenza citate in precedenza. Vi hanno dette due. Quindi, quella di Gardner, quella del dottor, come si chiamava. Ah, e l'altra è quella del professor Spearman, che è quella che io apprezzo particolarmente, che è quella del fattore G, GF e GC, cioè fattore G, intelligenza generale, che poi viene scorporato in intelligenza fluida, intelligenza cristallizzata, relativa a ciò che noi abbiamo appreso con l'esperienza. Quindi, studiando, apprendendo, possiamo immagazzinare in memoria delle soluzioni a dei problemi che possono essere richiamati o confrontati con problemi nuovi, sfruttando risultati già noti. Immaginate un giocatore di scacchi. Un grande maestro ha in memoria almeno, minimo, 1500 pattern, scusate, già pronti di schemi. Quindi, guarda la scacchiera, riconosce degli schemi già noti e sa già qual è la mossa migliore. Se quegli schemi non ci sono in memoria, lui comunque può ricondurre la situazione della scacchiera a uno schema che conosce, quindi comunque ridurre il numero di possibilità, analizzare come si evolverà la partita. Una volta che finisce in uno di quegli schemi, sa già come andrà, se è buono o no, valutare la posizione in base a dei criteri. Quella intelligenza cristallizzata, che poi viene, diciamo, regolata dall'intelligenza fluida che permette di ottimizzare quello che già si ha in background. Sarebbe come dire, voi fate le moltiplicazioni a mente perché sapete le regole grazie alla vostra potenza di calcolo, ma se sapete anche le tabelline siete fortemente avvantaggiati perché sapete già che quando trovate 7x6 risultate 42 perché vi ricordate 44 gatti in fila per 3 con il resto i due, si unirono compatti. Basta, 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 non ho l'intelligenza musicale per fare queste cose. Quindi, questi tre tipi di teorie, queste tre teorie, sono in cerca di una teoria dell'intelligenza unificatrice. La sua, così, la sua opinione, my guess, ma tiro a indovinare, no? Cioè, just my two cents, direbbero sempre gli anglofoni, è che così chiamati, ragazzi, questa affermazione è potentissima e io non mi sarei mai sognato di farla, eh, ma la sto leggendo, vi leggo testualmente quello che dice perché non mi attribuite a questa affermazione perché è veramente pesante. La sua opinione è che i cosiddetti, tra virgolette, esperti manchino dell'intelligenza necessaria per creare una teoria dell'intelligenza davvero soddisfacente. Forse è una situazione analoga a quella del problema di trovare una teoria coerente con la teoria delle superstringhe. Vi leggo testualmente quello che dice così non mi potete mettere in bocca cose non dette da me ma che io in realtà sposo. Lo dice lui, Ipsed Ixit. Hoi Flynn, due punti. These are three theories in search of un overreaching theory of intelligence. My guess is that the so-called experts lack the intelligence so far to create a really satisfactory theory of intelligence, perhaps analogous to the problem with finding a current theory of superstrings. Questo dice il dottor Hoyflin. Quindi lui che cosa afferma successivamente? Che pensa che la teoria delle categorie possa essere correlate in maniera forte a quello che lui definisce genio. Poi vi dirò che cosa definisce genio. Nonostante lui non si ponga come genio all'interno della classificazione in quanto si definisce un mero spettatore visto che la sua teoria ha vita propria. Non è necessario che lui sia un genio per poter far validare quello che lui afferma. Questa è la sua opinione. Non so se falsa modestia o davvero convintamente un'asserzione che riflette la propria idea e anche autostima. Va bene? Allora vi dico quello che penso io. Il resto va avanti. Lui definisce genio chi ha soltanto, ha come minimo un cui pare a una rarità di cui pare almeno una persona su 4.000 fino a un massimo di una su un milione, non oltre. Quindi in questo range si parte dal bottom range del genio fino al massimo. Quindi saremmo fra 153, no 152, circa 152 di cui è un massimo di 172. Dovrebbe essere quello il range. Sì. Da 152 a 172. Ecco in questo range secondo lui si colloca il minimo del genio ma il genio è necessario che abbia anche un'intelligenza creativa quindi una sorta di potenziale creativo superiore e secondo me che lo applichi. Questa è una mia personale opinione, lui non lo dice. Andiamo a vedere, andiamo a vedere ragazzi. Leggo dei commenti. Non ci sono i simboletti di chi mi segue, forse non hanno ricevuto la notifica. Mi sarebbe piaciuto avere qualche cintura gialla Smarties. Anche se mi sa che bisogna essere iscritti da un mese. Quindi sì, diventa giallo, cioè si ha l'icona gialla forse dopo un mese. Dopo due mesi mi sembra arancione e così via. Come le cinture vere e proprie. Ti scrivi in palestra di karate all'inizio cintura bianca, poi gialla, poi verde. Insomma, vogliamo dire che possiamo avere più tipi di intelligenza. Quindi possiamo avere l'intelligenza spaziale, mettiamo, quelle che cita il dottor Eiflin. Poi abbiamo l'intelligenza verbale. Questa è la mia teoria che però si rifà e ha come fondamento quella del dottore Eiflin. E poi l'intelligenza numerica. Questo è il punto di partenza che si afferma nell'intervista. Che cintura sono, dice Orfani del cervello? Se non sei uno Smarties non hai cintura. Quindi sei come quelli che arrivano in palestra e la prima lezione la fanno in tutta la ginnastica perché non hanno il karateggio o il judo oggi. Quindi proprio livello ultimo. E quando si corre per fare il riscaldamento sei ultimo in fila perché si va in base al danno o chiuno. Quindi sei proprio gerarchizzati al massimo. Questo è diventato un canale karateka ormai proprio. No vabbè sto scherzando. Tutti siete liberi di esprimere la vostra opinione indipendentemente dalla cintura. Solo che io non la considererò. Ecco insomma un dettaglio insignificante. Quindi abbiamo questi due tipi di intelligenza. Ma che cosa hanno in comune? Per esempio possiamo individuare un qualcosa che li collega. come la pattern recognition. Guardate dove voglio andare a parare. Vediamo se i più smart ci arrivano. Recognition. La pattern recognition è il riconoscimento degli schemi. È la base di tutti i test high range più famosi o anche di quelli normali. Anzi soprattutto di quelli classici. Mi citate il test sviluppato dai membri del Mensa Norvegia. Quello sviluppato dai membri del Mensa Danimarca. Il test Mensa. Che poi non è un test unico. Però per dire no? tutti i test che si basano proprio sulla pattern recognition. Cioè sul riconoscimento di schemi. Crea una matrice 3x3. Dovete individuare cosa c'è nella cella in basso a destra. Io sto analizzando proprio la pattern recognition. Questa è una pallina che rimbalza. Poniamo. Vedete? Sta rimbalzando. Quale sarà la soluzione? Pallina qua, pallina qua, pallina, che ne so. Qua o pallina qua, pallina qua o pallina o doppia pallina. La soluzione. La pallina sta rimbalzando. Io mi sposto sinistra a destra dall'alto in basso. Fa così. Pam, pam, pam e quindi tornerà su qui al centro. La prossima sarà qui. La soluzione è questa. Sto sfruttando la pattern recognition. Questo è un item molto semplice. La pattern recognition si trova in item di tipo spaziale, verbale, associazione, logica, ma soprattutto in quelli di tipo numerico. Quando noi non andiamo ad analizzare in maniera complessa delle sequenze, ma molto spesso bisogna vedere come si spostano le cifre, come interagiscono fra loro, come sono collocate a livello di posizione, spostamento e traslazioni. Quindi in realtà si trova un po' in tutto. Ma alla base abbiamo dei requisiti differenti. Mentre nell'intest, basati sull'intelligenza spaziale, molto spesso ci viene richiesto di conoscere soltanto delle forme basilari che sono innate nell'essere umano. Vi faccio l'esempio quadrato, cerchio, triangolo, stella, pentagono, che vi devo dire, freccia, su, giù, grande, piccolo, eccetera, eccetera. È molto semplice. Dentro, fuori. Possiamo avere anche dentro o fuori. Sto continuando. Potrei continuare. Sono idee molto facili, molto basilari. Rotazioni. Nei test dell'intelligenza verbale è richiesta anche una conoscenza accettabile della lingua. Spesso in test di associazioni anche conoscenze proprio di tipo pratico. Conoscere la storia, conoscere la geografia, conoscere cose di tipo, che ne so, ingegneria elettronica addirittura ho trovato, nomi particolari di razze di cavalli. Che vi devo dire? Quindi io posso creare degli insiemi delle associazioni basate su dei concetti parole latine. Sì, ok, potete cercare su internet nei test range, ma non è la stessa cosa. Test dell'intelligenza numerica, invece, sono un po' un connubio fra talento matematico, ma per la maggior parte è proprio pattern recognition ed è facilmente, cioè si può facilmente imparare a migliorare in test del genere facendone tanti. Quindi questi, secondo me, sono proprio i più deboli. Cioè, i test veri sono quelli dell'intelligenza spaziale per questo motivo. Perché non sono viziati dal problema dell'apprendimento o della conoscenza. E infatti sono quelli, per antonomasia, legati al fattore GF di Spearman. Professor Charles Spearman, citato nell'intervista, ve l'ho messa in descrizione, la parte più alta dell'intelligenza è l'intelligenza fluida. Secondo Spearman, intelligenza divisa intelligenza fluida più intelligenza cristallizzata ci dà proprio la nostra capacità, il nostro potenziale cognitivo. Questa è l'idea, è secondo me delle tre teorie in assoluto quella migliore, quella più completa e quella più intelligente. Ora, l'affermazione, ragazzi, che fa il professor, il dottor Eiflin, è fortissima. Cioè, non so se l'avete capito, ve lo ridico. Samuel, si arriva adesso. Ah, ciao Dami! Dario Dami, vedete, lui è uno smartis, però la cintura ce l'ha. Ecco qua. E vi do, scusate, faccio questa parentesi, vi do una notizia. Grazie al fatto che vi siete abbonati al canale, ci sono degli abbonati, mi hanno sbloccato un'altra Emotion, eh no Emotion, Emoticon, scusate, Emotion, non lo so pronunciare, è un'emoticon e quindi la potete creare voi, me la potete inviare. La quinta Emoticon la faccio creare a voi, un meme qualsiasi che riguarda il canale può essere richiamata scrivendo la parola. Quindi, se volete, grazie al fatto che i vostri colleghi si sono abbonati, tutti quanti i nuovi iscritti avranno, scusate, i nuovi abbonati, i nuovi abbonati, non i nuovi iscritti, avranno un Emoticon in più, quindi me la potete inviare, la aggiungerò volentieri. Tolta questa, chiesa questa parentesi, torniamo. Professor Charles Spearman, questa è la teoria, secondo me, migliore. Poi c'è il discorso dell'intelligenza emotiva, lì posso rifarmi all'idea di Daniel Goleman, cioè il professor Goleman, secondo me, il dottor Goleman ha avuto una buona intuizione, ma l'intelligenza cosiddetta interpersonale è subordinata a questo. Cioè, secondo me, il cui, che va in realtà mappare questo, in test molto spesso focalizzati qui, ed è la cosa migliore, ma anche test più famosi come il Vice hanno una componente legata all'intelligenza cristallizzata, specialmente il Vice 3R e il 3, adesso il 4 un po' meno. Quindi in realtà i test del cui vanno a vertere su questa area. E se vogliamo andare ad analizzare, possiamo vederla così. Qui abbiamo il cui, qui abbiamo l'intelligenza generale, compresa l'intelligenza cristallizzata, scusate, l'intelligenza interpersonale, perché il cui può condizionare la tua abilità di relazionarti con gli altri, anche se sei Asperger, anche se hai una bassa propensione, ti puoi sforzare. Quello è un discorso di voglia, non tanto di capacità, mentre chi ha un'alta attitudine a stare con gli altri e a divertirsi, non è detto che sappia risolvere un test o un problema di logica. vero, sapere ottimizzare una situazione, un contesto economico con tante variabili, saper trovare la rotta migliore per ottenere un dato risultato in uno scenario complesso. Anche in campo militare è molto importante avere un altro cui, tant'è vero che anche in test del genere, il famoso test militare americano era accettato dalle chiusosati proprio perché verteva su queste abilità. Era richiesto per fare carriera anche avere un cui alto. Insomma, una serie di cose. Ma io la vedrei così. Direi, se per avere un'alta intelligenza verbale, un'alta capacità verbale, non intelligenza verbale, è richiesta una grossa componente di fattore GC, anche solo come base, che ne so, un'elevata proprietà di linguaggio, e questa stessa elevata proprietà di linguaggio è subordinata al cui, infatti è dimostrato che chi ha un cui alto ha anche una proprietà di linguaggio più sviluppata, a parità di contesto, di istruzione, di capacità di accedere a quel tipo di contenuti, anche perché è più curioso, ma perché è proprio più bravo a memorizzare i concetti, le parole e ad utilizzarle, nonostante tutto, comunque sia, non sono sullo stesso piano quando noi andiamo a valutare il potenziale. Perché? Perché qui abbiamo un grosso influsso dell'ambiente, di ciò che noi abbiamo appreso. Qui abbiamo anche talento, quindi è un po' un misto fra talento, studio, intelligenza cristallizzata e intelligenza fluida. Nel campo spaziale, se noi ci rimaniamo sul facile, abbiamo il maggior grado di, cioè viene fuori in misura preponderante l'abilità innata. Sarebbe un po' come prendere dei ragazzi e farli correre, più o meno tutti sanno correre. Se invece gli chiediamo di saper giocare a frisbee, magari chi non ha mai toccato un frisbee è più svantaggiato, poi magari corrono comunque e lo sanno prendere. Però è più difficile. O giocare a calcio è avvantaggiato chi conosce già quel gioco, ha una palla a casa e si allena al campetto, ecco. Quindi se noi andiamo a valutare le abilità più basilari, che non risentono dell'influsso dell'allenamento, ne risentono meno, forse abbiamo una visione più coerente. La mia personale opinione da non ha detto ai lavori, non sono uno psicologo, tantomeno uno psicometrician, detta la matriciana. E questa è la base della mia idea. Ora andiamo a vedere un attimo i dettagli, leggo due commenti e poi chiudiamo. Allora, l'intelligenza multiple di Gardner non vanno, la teoria dell'intelligenza multiple non va per quello che ha detto il dottor Euflin. La prova schiacciante che quella teoria fa acqua da tutte le parti, a mio avviso, già smai più senso, opinione personale, è che questi tipi di intelligenza sono fortemente correlati fra loro. Vi faccio il mio personale esempio. Vi dico proprio i numeri. Tutti mi dicevano, io l'ultimo test del QI che ho fatto l'ho fatto nel 2013, vi do questa informazione, quindi ora non ho più idea del mio QI. All'epoca quando ero un po' più giovane e la curva di abbassamento ancora non si era rivelata, feci dei test. Il primo test che feci ottenni 160 più in deviazione standard 15 perché non aveva abbastanza ceiling ed era un test di logica pura, si chiamava M-Face L, sviluppato da Mario Infilinic se non erro. Quindi un test di logica pura, quindi mettiamoci logica. Poi feci un test che aveva tre aree, era il 916 di Laurent Dubois, un test rinomato anche famoso, e lì presi 174 deviazione standard 16, però qui è, è deviazione standard 15. Quindi circa 169.4. Ok? Questo era un test di logica più intelligenza cristallizzata, c'era anche qualcosa in mezzo, quindi intelligenza diciamo GF, GC più GF. Però per la maggior parte era logica. Ottenni anche punteggio perfetto nella parte 2, feci punteggio perfetto nella parte 1, nella 2, nella 3, feci un macello, poi mi resi conto anche degli errori, quindi in tre parti la terza contava di più, non erano, non avevano lo stesso peso, quindi vieni un po' penalizzato. Poi tutti mi dicevano, altri test, mi dicevano tutti quanti di provare però a fare un test verbale perché lì sarei andato male. Io dicevo ma io non voglio fare test verbali perché per me i migliori test sono quelli spaziali. Tant'è vero che presi 150, ora non ricordo, mi sembra circa 154, ora non ricordo i decimali, mettiamo circa 154, 153,6 forse, non mi ricordo. O 54 e qualcosa, boh. Nel test che secondo me era in assoluto il migliore che è l'OG Maastrichtica 36, fu l'unico test spaziale, il primo test che provai perché proprio ero convinto che quello fosse il miglior test, non perché mi aveva punteggi più alti. Quindi questo qui è un test proprio spaziale puro, di pattern recognition pura. Mi dicevano va bene ma provo i test verbali, tanto sono indipendenti, vedrai che andrai male. Io non avevo, lo sapete, non ho una conoscenza dell'inglese così alta in un test che verte sulle competenze verbali, associazioni, eccetera. Quindi feci un test in 5 aree, ho pubblicato lo screenshot, la foto su Instagram, potete andare su Instagram marcocapparetti underscore channel e trovate proprio tutta la lista dei punteggi. Lo feci in due giorni e mezzo. Test di oltre 110 domande, in mezzo andrei anche al cinema, quindi fatto di corsa senza dare il massimo e ottenne lì 162 aggregato, ma erano 5 aree. Nell'area in cui andai meglio ho presi 169 ed era pensiero astratto, quindi vedete il potenziale creativo, quindi diciamo creativo. Poi ha presi 165 nel test verbale. Quindi l'area verbale in realtà è andata sopra la media, sopra la mia media. Ora la domanda è, com'è possibile se queste intelligenze non sono fortissimamente correlate, non un po' correlate ma se non so proprio incastrate a bestia, com'è possibile che una persona del tutto casuale ottenga punteggi, qui la rarità siamo oltre 1 su 30.000, oltre 1 su 30.000 e qui circa 1 su 500.000 e quindi una rarità statisticamente improbabile, cioè una cosa che una persona normale mediamente non ottiene. Com'è possibile che provando un test di un'area completamente diversa, in un test completamente diverso, sviluppato da un altro autore, gli ottenga un punteggio superiore, con una realtà superiore a 1 su 100.000. 164 è 1 su 100.000, quindi qui siamo oltre. Statisticamente questa cosa avviene, se facciamo il prodotto, mettiamo qui anche sempre 1 su 100.000, avviene una volta su 10 milioni, no su 10 miliardi, avviene una volta su 10 miliardi, perché 1 per 10 alla 5, per 1 per 10 alla 5, vedete il risultato è 10 per 10 alla 9, cioè 10 miliardi, avviene una volta su 10 miliardi, è l'unico test verbale che feci, capite che statisticamente sto discorso non sta in piedi manco per niente e sta cosa vale per tantissime persone, non sono un caso strano io, è strano quando c'è una discrepanza netta fra più aree, in quel caso si parla di discalculia, dislessia o di situazioni che vanno indagate, tant'è vero che anche i test professionali più importanti è quando la differenza supera i 20 punti, mettiamo massimo 30, scartano quel punteggio e dicono vabbè poi indagheremo le cause in altra maniera, ma non ne teniamo conto, diamo un altro indice, un altro risultato, un'altra scala, capite che la teoria delle intelligenze multiple che dice che queste intelligenze sarebbero indipendenti, tanto che vanno definite a parte, così tutti possiamo dire siamo bravi in qualcosa, non ha proprio senso di esistere, da un punto di vista statistico, statistico, è matematica, la statistica è matematica ragazzi, di sicuro più di quanto questa sia scienza, mia persona l'opinione ma non ne sono convinto, ho basato sui numeri, poi l'intervista del dottor Eiffle in parla anche della discrepanza di cui fra maschi e femmine, fra uomini e donne, e lui sempre cita la statistica, dice che nelle code alte, anche nell'intelligenza verbale, cosa che non mi risultava e non sapevo, l'incidenza di cui alti è comunque molto superiore nei maschi rispetto alle femmine, addirittura cita i risultati oltre mi sembra 180, una cosa del genere, in test verbale che lui ha sviluppato in un test, dando come dato mi sembra 18 uomini e 4 donne, una cosa del genere, ora adesso vado a cercare, vabbè non è un campione statistico enorme ma rende comunque l'idea statisticamente, no 16 uomini e 4 donne, allora, nel secondo concept mastery test, un test totalmente verbale, dei 20 membri gifted del gruppo di Therman, quindi Luis Therman il più famoso precursore dei test del cui iRange, tra quelli che hanno avuto un punteggio fra 180 e 190, che era il massimo del test, quindi diciamo tra i top scorer, 20 top scorer in questo test erano 20, in un test puramente verbale, 100% verbale, il risultato fu che 16 uomini e 4 donne hanno ottenuto quel punteggio lì, in particolare, punteggio fra 180 e 190, ora non so anche di viazione standard, mi sa 16, questo è un fenomeno che fa pensare, quindi secondo lui le abilità verbale che sono in realtà più spiccate nelle donne, così risulta, sarebbero relative al linguaggio, a questioni diciamo più comuni, mentre quando si va a indagare la massima specificità nell'abilità di saper collocare le parole, scomporle, eccetera, c'è comunque secondo lui una componente legata ai puzzle, all'abilità e alla propensione maggiore degli uomini, a suo dire, nell'affrontare problemi di questo tipo, nel risolverli per esempio per il discorso spaziale, io sapevo che la teoria alla base era che negli uomini l'intelligenza spaziale sarebbe più sviluppata, almeno nelle code, proprio perché l'uomo doveva cacciare, quindi riconoscere gli schemi, i percorsi di caccia e era necessario appunto che sviluppasse delle strategie per procacciarsi il cibo, difendersi dagli aggressori, dagli altri villaggi, eccetera. Nelle donne invece era più importante mantenere un livello medio stabile con una bassa viazione standard, quindi una curva più stretta, a livello di cui anziché magari quella dei maschi che potrebbe essere così, un po' più spostata a destra ma di poco, ma con una viazione standard molto più larga, quindi nelle code, in questa coda, in questa coda, c'è una maggior percentuale di maschi, perché per una donna è più importante mantenere, avere dei figli e quindi garantirgli, diciamo, l'assistenza basilare, no? Se noi prendiamo delle persone nelle code possiamo sì avere Einstein, magari anche stabile, ma possiamo anche avere Forrest Gump e non è detto che sia un buon padre, un buon genitore, la donna deve garantire la sopravvivenza della prole in realtà, dal punto di vista genetico, perché la persona che le mette al mondo, ora, potevano esserci anche problemi di poligamia in società molto arretrate, potevano, sto immaginando, esserci problemi legati alla perdita della vita del padre perché andava a combattere contro un branco di bufali, che vi devo dire, un villaggio rivale, quindi per la sopravvivenza della specie e per poter, diciamo, trasmettere quel patrimonio genetico era necessario garantire questo, quindi, diciamo, se Dio doveva giocare ai dati preferiva farlo con gli uomini anziché con le donne, lo dice anche Ken Follett nel libro Il Terzo Gemello, se vi interessa, non è una fonte, però è curioso. Questo era ciò che sapevo io, però questo dato, in effetti, per quanto il campione statistico sia piccolo, fa riflettere perché è riportato appunto dal dottor Euflin. Io credo che il cui non sia tutto ci siano altre abilità alla base, ma vi ho detto in un discorso gerarchico, quindi comunque sia, conta molto l'istruzione, è anche molto importante in un dialogo, nel quanto ti può interessare una persona e puoi provare piacere nel conversare con lei o con lui, conta anche molto la cultura, quindi il fattore GC, non solo quello GF, addirittura forse conta più del GF a livello di interazioni, però questa è la parte più pura, quella che si può sondare, quindi i test del cui più astratti, basati sulla pattern recognition che è l'elemento comune di queste abilità, secondo me, stanno qua, quindi la pattern recognition sta qua e qui sotto possiamo avere GC, possiamo avere abilità, diciamo intelligenza, come vogliamo chiamarla, intelligenza sociale, e secondo me qui Goleman è, Daniel Goleman è il punto di riferimento. Questa è la mia opinione, leggo dei commenti. Io vorrei specializzarmi in meccanica statistica, mi servirebbe un qui mediamente più alto del mio, e non so quale è il tuo, ma non credo, io non mi porrei questi dubbi, questi problemi, eh. Feynman, ragazzi, Richard Feynman ha 125 di cui è stato uno dei fisici che ha segnato in maniera più profonda, appunto, la fisica del 900, quindi qui, non certo in questo range, qui parliamo di gente con 180, eh, lì parliamo di 125. Per favore mi calcoli la bravura, no? Eh? Non sei nemmeno simpatico? Vabbè. Non discutete, però, non fate domande utili, vi sto dando questa possibilità, questa live, questo tempo, sfruttatelo per qualcosa di utile. La questione del cui femminile non può essere anche culturale, ragazzi, sono scusa, io vi dico la verità, ragazzi, non voglio essere, io sto cercando di approcciare questo argomento con la massima imparzialità possibile. Vi dico, il discorso culturale non regge più. Al giorno d'oggi ci sono pari opportunità dal punto di vista dell'accesso all'istruzione. Non mi potete dire che la donna, forse ai tempi di Terman, ma, che la donna non può avere accesso a cultura. Secondo me è un discorso più che altro di attitudine, possiamo vederla così. Potrebbe esserci un influsso anche del testosterone, dei livelli di testosterone. C'è uno studio che oggi è stato messo in crisi di recente, ma che correva a livelli di testosterone prenatale e all'autismo addirittura, eh? Cioè, e lì è controverso il discorso, non entro, ma ci sono dei ricercatori che sostengono che i livelli di testosterone della donna, mentre è incinta, può condizionare, altri livelli di testosterone possono causare un cervello più autistico, perché sarebbe l'ipermascolinità del cervello, cioè questa teoria. E è stato poi fatto un test a posteriori con le persone adulte, in quel caso non si hanno problemi dal punto di vista del riconoscimento, delle emozioni facciali, eccetera. Quindi tratti di Asperger. Però negli adulti, nei bambini non si sa. Quindi in fase di gestazione potrebbe essere che i livelli elevati di testosterone vadano a condizionare un'ipermascolinità del feto e quindi creare i presupposti per una maggiore incidenza dell'autismo. Infatti la causa di tutto questo, il motivo per cui si è fatta questa ipotesi, è che nei maschi è più comune l'autismo di circa dieci volte rispetto alle donne, o comunque è molto più comune. E un altro tratto che viene messo in correlazione è il fatto di avere le due dita, soprattutto l'anulare, più lungo della norma. Guardate i miei, ora non so dirvi, ma i miei, questo qui, è più lungo dell'indice. Cioè ho l'indice più corto dell'anulare. In genere si confrontano la lunghezza dell'indice dell'anulare per trovare una correlazione, una correlazione, non è regola, fra la lunghezza di questo dito rispetto al medio e la possibilità dell'incidenza dell'autismo. Queste sono cose che però stanno nei paper, io non entro nel tecnico perché non le so, però vi potete comunque cercare le fonti e provare per curiosità personale, non che si possano fare diagnosi, però sono delle correlazioni statistiche, qui si parla di correlazione statistica. Qualche esame di statistica l'ho pure fatto, anche prendendo qualche lode. Però, insomma, è così. Quindi, tornando a noi, io credo che il discorso della differenza del cui tra l'uomo e donna dipende dai test, quindi dipende dai test. Se prendiamo un test spaziale, possiamo, secondo me, avere qualcosa del genere. Prendendo lo stesso gruppo etnico, anche lì c'è un'incidenza che può avere ragioni culturali, di altro tipo, non ve lo so dire, però si è trovato anche lì, prendete tra nazioni diverse, la media del cui nello stesso test può variare. In test però spaziali, quindi su un'abilità settoriale, è come se andassimo... Potrebbe essere anche che la lingua influisca, cioè addirittura, eh? O la formazione primaria, ora non ve lo so dire, il tipo di competitività in alcune società mi viene in mente quella giapponese, dove c'è molta competitività all'interno della scuola. Quindi, voglia di emergere, conta anche la motivazione, potremmo avere magari qualcosa di questo tipo, no? Magari così, con la fatta L, per i maschi, per un test spaziale, e per le donne magari potremmo avere qualcosa di questo tipo. Ok? Quindi è chiaro che se noi prendiamo questa coda, l'incidenza degli uomini sarà superiore. Sarà superiore in questa coda, ma se prendiamo questa coda, sarà superiore sempre l'incidenza dei maschi, quindi potremmo avere più maschi nella coda completamente a sinistra, e più maschi nella coda completamente a destra. Magari la media differerà un po', ma di poco, cioè questo scarto sarà minimo, di qualche punto. Mi posso attendere questo? certo. Se però prendiamo un test verbale, le cose cambiano, dovrebbero cambiare, perché le abilità verbali, mediamente, anche se intendo parlare o a livello di scrittura, anche se leggete pezzi giornalistici, io l'ho notato, le donne hanno una proprietà di linguaggio in genere migliore. Ora, può dipendere da tanti fattori, ma perché? Potrebbe essere che la media sia spostata, quindi magari la curva sia più stretta comunque, ma più spostata. Potrebbe essere anche che non sia così. Però anche in questo caso, facciamo questa ipotesi. Comunque sia, nelle coda estreme, perché qui parliamo di cui da 180 in poi, deviazione standard 16, va bene, ma parliamo comunque, poi c'è il discorso effetto flino è stato corretto, mi sembra equivalesse a 160 più, una cosa del genere, avevo trovato degli studi. Mettiamo anche 160. È chiaro che qui siamo in una coda estrema, qui siamo a più 4 deviazioni standard alla media. E allora in questa coda, comunque potremmo avere più maschi, ma la media potrebbe tranquillamente essere superiore nelle donne. Quindi questo è il valore medio. Questo è il valore che ci interessa. Così, qui il valore medio delle donne potrebbe essere minore, donne minore di, medio degli uomini, e qui potrebbe avere il contrario, medio donne maggiore di media uomini, ma nella coda destra comunque avere un'incidenza maggiore di uomini. Le medaglie Fields in genere più spesso le vincono gli uomini rispetto alle donne, anche se nell'ultima competizione una donna ha vinto. Ma in genere è così. Poi abbiamo avuto Marie Curie che ha vinto due premi Nobel, quindi i pazzi e tutti i dati. Quindi sono discorsi statistici, non sono discorsi legati al caso. Potrebbe essere qualcosa del genere. Io penso che nelle abilità verbali gli uomini non siano superiore alle donne, io credo questo. Anche perché le donne le allenano molto di più, parlano di più, tendono ad avere più relazioni a livello di sociali, più insomma interazioni, non relazioni. La vedo così. Poi magari scopriamo che non è questo. Il fatto che la deviazione standard sia diversa fra uomini e donne è abbastanza evidente. Anche se prendete delle chiuso sociali normali, pure nel mensa, vedete che c'è un'incidenza maggiore di uomini rispetto alle donne. Ora la motivazione qual è? Un corso di ingegneria meccanica, fisica, matematica, dove in genere il cui conta di più, in genere sono più popolati di maschi, mentre magari i corsi di lettere, storia, eccetera, hanno un'incidenza relativa maggiore di ragazze. Potrebbe essere un discorso di interesse. Potrebbe essere che alle ragazze interessa di più la cultura, la storia, la letteratura, che ha una dignità altissima. Non ve lo so dire questo. Però il discorso statistico lo sottolinea Eifflin, che probabilmente ha più dati di me, ne sono convinto. Lui è un creatore di test, un fondatore di società rinomate, ha 80 anni quasi, un'età del genere, non mi ricordo, ma insomma ha una certa età, quindi ne ha viste dai tempi di Derman a oggi, i primi testo degli anni 70 che ha sviluppato. Chissà, ragazzi, io non ve lo so dire. Vi posso dire che nel contesto medio o medio-alto che ci interessa, in questo e in questo caso credo che la differenza sia minima. Probabilmente nelle abilità verbali sono ancora convinto e resto convinto che le donne abbiano qualcosa in più. Nel contesto medio. Poi i test sono focalizzati di solito su questo contesto qua. Lo dice il dottor Eifflin, dice che i test vengono fatti in quest'area perché è un discorso economico e fa il paragone con la musica pop. Perché la musica pop ha tanti interpreti? Perché si rivolge alla fascia più ampia possibile di popolazione. Così i test che vanno a misurare per lui il range medio, medio-basso, e lui definisce 50-150. Questo già vi fa capire i parametri che ha lui. Per me 150 è altissimo o molto alto. Per lui è a livello medio, oltre 150 è alto. Quindi dice, andiamo a misurare il cui medio da 50 a 150. Sì, ma prendiamo il 99,99% della popolazione là. 99,9%. Invece per lui quella è fare musica pop, musica popolare, insomma. Poi comunque Michael Jackson a me piaceva, non è che perché sia stata pop... Vabbè, commenti e ci salutiamo. Tanti tanti spunti di riflessione, parte 3 dell'intervista in descrizione. Potete poi cambiare l'url, cercare sullo stesso giornale e trovare anche la parte 1 o la parte 2. E la mia intervista, se cercate i vecchi numeri ve la consiglio. Così. Volete sapere come la penso? Cercate la mia intervista su Insight Journal di Scott Jacobsen. Ok. Le donne hanno migliori proprietà di linguaggio, dice Orfe nel cervello, perché allenano di più l'eloquisin da bambine. Potrebbe essere sia un discorso di propensione che di allenamento, perché queste sono tutte abilità allenabili. Soprattutto le abilità verbali sono grandemente allenabili. Pensate anche a un logopedista che comunque prende una persona con la dislessia e la fa migliorare tantissimo anche solo in quel settore. Quindi davvero, non dico la pronuncia, dico proprio il discorso di connessioni fra capacità di richiamare parole e intavolare i discorsi. La vedo così. Poi le abilità spaziali sono molto settoriali e possono essere utili in specifici ambiti, però sono indicative del potenziale generale, perché sono meno viziate dall'allenamento. Quindi depuriamo da un fattore che può mischiare le carte. Quindi a livello di indagine secondo me sono superiori, ma non sono superiori in senso lato nella vita della persona, nella capacità di fare qualcosa. Sono superiori nella capacità di indagare a priori ciò che poi si potrà sviluppare da quel tronco. Che tipo di albero poi nascerà? Dice Solz. Marco, secondo te i test gratis online sulle matrici RAI potrebbero essere intrattenibili? No. Secondo me no. Poi fate come vi pare. Test gratis per definizione vi mette alla pubblicità e dubito. Ciao Misty? Ecco Misty è una persona dentro l'argomento che ne sa sicuramente tanto. Il genio non è più sopra 145 ma sopra 142, dice Brown. Il genio, secondo Eiflin, parte da 152 ma deve avere anche delle abilità creative. Secondo me no. Secondo me il genio è colui che dà un contributo sostanziale, innovativo, originale in un dato settore, grazie alle proprie capacità. Quindi che lui crea qualcosa di originale migliorando la conoscenza in un dato settore facendo qualcosa. Ci sono anche i geni del male, ma comunque fanno qualcosa di innovativo. Quella secondo me è genialità. Però non è una definizione condivisa. Quindi io vi potrei dire anche il genio può essere da 160 in poi così mi ci metto dentro insieme ad Einstein. Ma non è quello. Secondo me essere genio non si può misurare con un test del cui corrisposte già fatte e dei item già pronti. Molto spesso creati magari dallo psicologo, psicometrista che ha 120 di cui, una persona con 120 di cui può creare item anche più complessi. Ma come fa a definire chi è un genio se lui stesso non sa manco per il cavolo che cosa può avere nella testa una persona che ragiona in maniera 20 volte più rapida? Vi ho detto, vi ho letto l'intervista all'epoca molto tecnica di quel professore che adesso non ricordo, Michael Ferguson, vi mise in descrizione. Lui diceva che chi ha un cui molto alto, 160 rispetto a chi ha 100 di cui, ragiona 7, 8, 10 volte più rapidamente. Può imparare qualcosa 8 volte più rapidamente. Ci rendiamo conto. Ora come faccio io stesso a valutare il potenziale cognitivo di chi ha 190? Come faccio io ad entrare nella testa di Perelman e dire come fa lui a pervenire ad una dimostrazione basata sul tensore di Ricci? No, tensore di Ricci, come si chiamava? Ricci's flow, eccetera. Quando ha dimostrato il lemma di Poincaré? Non lo posso sapere perché non sono in grado di partorire quella dimostrazione e quel risultato. Non sono in grado di partorirlo, quindi posso dirgli bravo, ma non posso ripercorrere il suo schema di ragionamento immedesimandomi lui. Quello è il problema. Figuriamoci chi ha 60 punti in meno. Io non penso di avere 60 punti in meno di Perelman. Seppur, secondo me, la differenza fra me e lui sia comunque incolmabile. Questo è il punto. Si può ancora fare il test creato? No. Si può fare online perché l'ho pubblicato su YouTube. L'Xtest lo trovate su YouTube in versione ridotta, quindi lo potete fare gratis. Chi è precoce nell'imparare e leggere e scrivere necessariamente gifted? No. Non credo, non credo. Dipende molto dalla cultura. Non tutti gifted imparano a leggere prima. Non vi so dire se chi sa leggere a due anni sia quasi sempre gifted. È un indicatore, ma non è detto. Non credo. Il genio è colui che dà al mondo qualcosa di nuovo. Bella definizione. Qualcosa di originale. La metterei così. Vi saluto ragazzi, abbonatevi al canale, supportate la ricerca intelligente, questo tipo di risultati. Ce ne saranno molti altri e poi potete fare carriera con i badge. Chi si iscrive prima diventa la prima cintura marrone, cintura nera. Diventerà Smarties è bellissima. L'icona nera scatta dopo due anni di abbonamento, ma avete la cornice nera, la S bianca con il contorno rosso, quindi proprio spicca al massimo. Lasciate un commento, lasciate un commento in chat, in un video, sotto a un video. Tutti lo noteranno. Ok, vi mando un salutone, un abbraccio. Ciao Smarties a tutti, buon qui, buona intelligenza e ricordate che anche l'allenamento fa veramente grande differenza. Vi aumenta, vi migliora le capacità e anche la motivazione, quindi convincetevi di essere bravi. Non pensate mai, questo problema in matematica è troppo difficile, sono una ragazza, non sono asiatica, quindi andrò male in matematica. Niente di più falso. Già solo convincendovi di essere in grado di fare quella cosa, potrete migliorare tantissimo e superare quei problemi, è stato dimostrato. Quindi soprattutto le ragazze che spesso hanno l'idea in matematica non sono portata, cancellate e risettate tutto, ricominciate da zero e vedrete che avrete risultati più importanti. Molte grandi matematiche, ricercatrici e anche una recente vincitrice di medaglia Fields era donna, quindi. Volete essere come Marie Curie o come una Barbie, potete essere entrambe belle e bravi anche in scienze esatte. Ciao a tutti, dipende da voi.